Nella marcia verso il grande obiettivo, questa è una tappa fondamentale. La Juventus vuole prendere questi tre punti e tenere a distanza di sicurezza tutte le avversarie. Una partita difficile contro una delle squadre più in forma del campionato. 90 minuti di fuoco, 90 minuti per imporre il nostro gioco, 90 minuti per vincere. Via, si parte allora. Buon divertimento con Sassuolo Juventus, la 33esima giornata, il campionato di Serie A. Higuain, Alexandro, De Ligt, Ronaldo e Chiellini dentro a saltare. Pjanic, è uno schema, attenzione, Danilo la conclusione, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio. Al minuto numero 5, festeggia il suo compleanno nel migliore dei modi. Danilo, 1-0 Juve, è uno schema, gran destro, a battere consigli, 1-0. Grande schema, assist di Pjanic, destro, secco, a battere consigli, 1-0 Juve. L'inizio migliore possibile e immaginabile per quanto riguarda la squadra bianconera che palita forte, fortissimo, con il gol dell'ex City. E poi rivediamo il gol di Danilo per il vantaggio della Juventus. Largo Danilo, Pjanic subito di prima intenzione, buona idea a questa attenzione, vai Higuain, Higuain, Higuain. Il raddoppio della Juventus, Gonzalo Higuain, minuto numero 12, cambia, imparcia la Reggio Emilia, Sassuolo 0, Juventus 2, ha segnato il pipita, ha segnato, Gonzalo Higuain, 2-0. Questo è il lancio di Pjanic, con Higuain che parte sul filo del fuorigioco e poi va a fulminare consigli, due assist per Miralem Pjanic e due reti per la Juventus, 2-0. Muldur, Muldur in avanti per Berardi, scavalcato Alexandro. Berardi vuole rientrare sul mancino e così infatti ancora il 25, Berardi con il mezzo esterno per Muldur. Magnanelli arriva come un treno, Gonzalo Higuain, di sporca traiettoria, dentro il pallone per Caputo. Attenzione, Caputo all'aggancio, Caputo, Caputo, l'uscita di Scesni di fronte a Francesco Caputo, con tutto il corpo ad opporsi a Caputo. Boga, punta Bernardeschi, va ancora Boga, fuori dall'area di rigore, vuole il numero, adesso è dentro l'area Jeremy Boga, sempre lui, vuole la palla a giro, ma non ci sono spazi. Allora palla larga per la conclusione di Berardi, palla sopra la traversa, contatto di deviazione, brimido per la porta di Scesni. Ronaldo, Bernardeschi, Danilo in avanti ancora a cercare il Pipita, Higuain insegue il pallone, di testa, attenzione, Ronaldo la mette giù, c'è il portiere fuori dai pali, Ronaldo! Palla sull'esterno della rete, stava per combinare una gran frittata, Andrea Consigli. Corner per il Sassuolo, il traversone in mezzo, colpo di testa di Piani, c'è uno dei più piccoli, palla fuori, con la sfera per Muldur, Muldur vuole cross, finta il traversone. Muldur la conclusione deviata, stupenda parada di Scesni, grande intervento di Scesni. Occhio aperta, aperta! Juricic per Magnanelli, gioca rapidissima la formazione di De Zervi, attenzione a Caputo, Caputo dentro il pallone, Berardi, Berardi il tiro, Scesni ancora una volta! Locatelli dall'altra parte, il pallone verso Muldur, lo aspetta Alexandro nella nostra metà campo. Allora il turco prova a mettere il turbo, attenzione a Muldur, parte palla al piede, va ancora numero 17, Muldur arriva al pallone, attenzione Caputo, Caputo vuole girarsi dentro il pallone. La palla in rete, gol del Sassuolo, segnato da Dioricic. Gol di Filippi Dioricic, minuto numero 29, Sassuolo 1, Juventus 2. Il gol di Dioricic. Quinto gol in campionato per il 28enne serbo, rivediamo su questa azione questi batti e ribatti, Caputo bravo a servire il pallone per Dioricic, che questa volta Scesni non ci può fare niente e quindi 2 a 1 per la Juventus. Primo tempo molto spettacolare, ricchissimo di gol. Fischia l'arbitro, Dioricic la finta, batte Berardi, Berardi al traversone in mezzo, attenzione colpo di testa, palla alta, pericolo per la porta di Scesni, anche con un fallo però, quindi punizione per la Juventus con il fallo di Federico Peluso. Ai danni di Aleksandro. Chiriacopoulos, ancora il greco su quella fascia, Chiriacopoulos, palla centrale, attenzione a Dioricic, Dioricic dribbling, Dioricic viene chiuso ma non è finita, Locatelli, Locatelli con l'esterno dall'altra parte per Berardi, Berardi fuori dall'area di rigore, adesso dentro, Berardi la conclusione, Scesni, la blocca, Wojciech Scesni. Finisce qui, il primo tempo, primo tempo che vede la Juventus in vantaggio per 2-1, le reti al quinto di Danilo, al dodicesimo di Quaina, al vintinovesimo di Dioricic, fischia l'arbitro, Berardi. Guarda il tiro di Berardi, la palla in rete, il pareggio della Sassuolo con Berardi, minuto numero 6 del secondo tempo, cambia il parziale al Mafei Stadium di Reggio Emilia, 2-2 il punteggio, il gol su pulizione di Berardi. Sotto l'incrocio dei pali, gran calcio di pulizione, per non è passato tra Bentancur e Ronaldo, forza ragazzi, dai ragazzi. Premessa laterale, Chiriacopoulos, scambio con Locatelli, ancora il giocatore ellenico, dai e vai, Chiriacopoulos prova a buttarsi dentro, bravo Danilo, poi però c'è Caputo, la gira dall'altra parte per Berardi, dentro l'area di rigore, va Berardi, ancora punta la porta, Berardi la conclusione, Caputo e la palla in rete, 3-2 del Sassuolo con il gol di Caputo sul secondo palo, mette dentro la sfera, minuto numero 54, Sassuolo 3, Juventus 2, il gol di Caputo. Caputo, posizione regolare di Caputo, 3-2 per il Sassuolo. Alessandro al centro verso Bentancur, Bentancur con i tempi giusti per Paolo Di Bala, con l'esterno verso Danilo, attenzione va la Juventus, Danilo largo per Bernardeschi, Ronaldo voleva il pallone, Bernardeschi largo sulla destra, traversone in mezzo, attenzione, Rabiot, palla fuori. Colpo di testa di Adria, Rabiot, palla a lato. Rinvio lungo, Diuriciccia con il tacco verso Bogà, la palla arriva al numero 7, bravo Danilo a metterci il piede, Rabiot con l'esterno per Paolo Di Bala, Di Bala punta la porta, fa la gioia, Di Bala dentro il pallone, verso Ronaldo! La parata incredibile, incredibile, Ronaldo non è riuscito ad arrivare con i tempi giusti. Bentancur, il traversone in mezzo di testa e la palla in rete, 3-3, il gol della Juventus, colpo di testa di Alexandro, minuto numero 64, 3-3! Col di testa di Alexandro sul primo palo, si inserisce il laterale brasiliano, incredibile davvero, calcio d'angolo bravo, Alexandro a anticipare Peluso alle spalle di Locatelli, 3-3 il punteggio! Matuidi largo per Ronaldo, Ronaldo con l'esterno verso Alexandro, Alexandro ancora, prestato da Berardi, Alexandro se ne va via sulla sinistra, Alexandro attenzione, pallone in mezzo a cercare Ronaldo, Ronaldo! La parata ancora di consigli, poi Rabiola mette in mezzo, di testa Peluso, non è finita, altra parata di consigli su CR7, Danilo, Danilo al centro per Bentancur, Bentancur per Di Bala, Di Bala con il mancino, palla altissima! Sassuolo in avanti, con Locatelli che ricomincia da dietro su Marlon, Marlon per Locatelli, sminsta largo a destra su Muldur, Muldur al centro per Burabia, Locatelli con il tacco addirittura per Traore, attenzione a Sassuolo, Traore dentro il pallone per Caputo, Caputo, Caputo per Traore, Traore il tiro! La parata di Scesni, non è finita, bocca a bocca, il tiro di testa, salvataggio clamoroso di Alexandro! Marlon tiene la sfera, ancora Marlon, palla centrale, c'è un problema fisico però che ricomenta ancora, attenzione a Burabia, destra di Burabia, Scesni la mette in calcio d'angolo. Finisce qui la partita a Reggio Emilia, Sassuolo e Juventus pareggiano 3 a 3, doppio vantaggio della Juve al quinto e dodicesimo con Iguain, poi tre gol per il Sassuolo di Uricic, primo tempo poi Berardi e Caputo nella ripresa, il pareggio di Alexandro. Grazie a tutti!